E se vi dicessi che oggi è il 22 febbraio ed è venerdì, siamo nel 2019 e siamo all'ultimo volto della settimana? Beh, non è difficile da immaginare. Quindi via subito con Power Snatch andiamo a costruire un heavy set di due rep. Poi ci sarà un 4 time, 50 calorie raw, 20 hand stamp sharp, 40 dumbbell snatch, 40 hand stamp sharp e 20 dumbbell snatch, prese e scalature come al solito qui di fianco. È tutto per questa settimana, ci rivediamo lunedì, naturalmente, come ha stato detto un buon weekend.